Di cosa voleva parlarmi? Posso offrirle una storia molto speciale E con il tuo soggetto E di che parla? Stavolta dovrai fare almeno lo sforzo di leggerlo Vedi fuori, ce l'abbiamo! Pensavo che come al solito sarebbe andata liscia Tu ci metti la faccia e io la storia Le conviene dirci tutto subito La storia è vera Da chi l'ha saputa? Se vuole scrivere questa storia Lei deve restare nell'ombra Sono arrivati stanotte dalla sua mail Lui è in coma da tre giorni Hai mai sentito parlare della natività di Caravaggio? I mafiosi l'hanno rubato 50 anni fa a un oratore di Palermo Questo mister X tu l'hai mai visto? Il nostro problema è un altro Che conosce l'altra parte della storia Quella che non è ancora avvenuta Non ho mai lasciato una storia a metà Questa storia è diventata troppo pericolosa Ne troverà sicuramente una migliore Posso benissimo andare avanti da sola Che titolo darebbe la sua storia? Questa storia è diventata